Mentre Italo carica le slide, ne approfitto perché lui è l'unica persona che ringrazia sempre tutti e poi non si riesce mai a ringraziare. Invece credo che il ringraziamento a lui ci vada e vada da parte di tutti perché Gira come Gigi da Trottola in giro per l'Italia è un'altra di quelle persone che è sempre disponibili nonostante sappiamo tutti l'amore di impegni che ha e quindi credo che dobbiamo a lui il fatto che siamo qui oggi, il fatto che eravamo a Bologna l'anno scorso e il fatto anche che Libra Italia esista. Grazie. Allora scusate ma io non riesco a parlare seduto e quindi parlo in piedi. Volevo prima di tutto e volevo ringraziare veramente tantissimo il generale Sileo perché sapendo quali sono gli impegni di una persona del suo livello essere qui è veramente la dimostrazione di un rapporto di collaborazione e di scambio molto importante e lo ringrazio perché il generale Sileo dovete sapere che ha dovuto sopportare il sottoscritto, il modo in cui si veste che chiaramente è abbastanza inadeguato per un mondo formale come quello dell'esercito però gli volevo far notare che oggi mi sono messo anch'io in alta uniforme uniforme diciamo da fondazione nel senso che quella che indosso è la felpa che hanno i 16 fondatori del progetto LibreOffice. Questa felpa che ovviamente da nerd è una cosa però è esattamente quella che noi ci siamo regalati a spese nostre al primo FOSDEM che è quello del 2011 al quale abbiamo partecipato proprio per poterci far riconoscere rispetto agli altri. Il FOSDEM non so chi c'è stato ma è un evento fondamentale per il mondo del software libero era il primo a cui noi ci facevamo vedere in pubblico e quindi volevamo essere facili da identificare quindi abbiamo scelto questo colore verde che è il mio colore preferito ma non sono stato io a sceglierlo e abbiamo scelto questo adesso io mi giro scusate non voglia ma questa è stata questa questa che dice la libertà non è mai stata così sweet quindi così dolce facendo questo gioco tra il la parola dolce e il concetto di sweet che non sappiamo e questa è una cosa stranissima questa questa frase è stata scritta sul nostro wiki non sappiamo da chi quindi è stato un contributore anonimo del progetto che la scritta su wiki noi ce la siamo trovata l'abbiamo trovata molto adatta e poi l'abbiamo utilizzata adesso poi ovviamente abbiamo fatto altre forme di felpe eccetera c'è anch'io quella libretalia chiaramente però volevo dire io questa la indosso con grande orgoglio perché a cinque anni di distanza dalla nascita del progetto devo dire anche noi come progetto libre office non avremmo mai pensato di essere dove siamo e un po di ringraziamenti per iniziare allora prima di tutto direi due persone che hanno avuto un ruolo speciale una di loro è qui l'altra dovremmo fare la conferenza a torino per averla in sala sono walter mura che la e luca daghino allora se non ci fossero stati walter e luca noi non avremmo avuto libre office in italiano quindi direi questo mi sembra fondamentale poi un grazie a chiaramente a sonia marina alfredo andrea gabriele e giordano che sono gli altri membri del consiglio libre italia che sono stati nessuno di loro sono stati io ho fatto un po da despota e lo lo riconosco e nessuno io ho deciso che era praticamente ho deciso che era presidente che era vicepresidente che era tesoriere d'altronde c'è abbiamo un banchiere voglio dire al banchiere io dobbiamo far tesoriere lui di continua a dire che è bancario ma in realtà un banchiere e anche gli altri che sono tutti fanno parte del progetto libre umbria perché in realtà il progetto libre umbria è stato fondamentale per la storia di libre office in italia perché se non ci fosse stato il progetto libre umbria probabilmente libre office non sarebbe nella posizione in cui oggi poi un grazie a stefano paggetti a osvaldo gervasi a enio e antonio e nio gemmo e antonio faccioli i primi due perché sono sempre stati come dire la voce della saggezza all'interno del 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 consiglio con ruoli diversi chiaramente e gli altri due per il loro enorme impegno a favore di libre office poi un grazie a stefano epifani che ci sta ospitando sulle pagine tech economy e ci fa anche lui un po da consigliere a distanza a carlo piana che quando ci abbiamo qualche cosa da fargli leggere lo fa sempre molto volentieri e a lucio bragagnolo che mi ha scritto ieri sera dicendo che di scusarlo perché non era qui ma a di appena nato un bambino e quindi a dei come dire dei doveri di padre lucio è un giornalista è un mio vecchissimo amico e ha scritto alcune cose e l'ultima devo dire è stata fantastica perché il post il post parole che pesaro è stata veramente devo dire la sua genialità di giornalista ha messo un po la parola fine a una querelle abbastanza lunga che c'era stata grazie ai fondatori e a tutti i soci di libri italia sicuramente allo stato maggiore della difesa perché è stata una sorpresa incredibile che noi abbiamo avuto e credo che allora stefano ha detto stefano in questo caso paggetti ha detto noi siamo arrivati più in là di quello di dove pensavamo di arrivare allora io oggi faccio il presuntuose ti dico che siamo dove volevamo arrivare sicuramente ci vuole anche un po di fattore c ce l'abbiamo avuto e chiaramente un grazie a tutti quelli che stanno migrando a libre office perché ci aiutano anche a essere attivi e a essere reattivi con le loro migrazioni io qui devo però così come lo stato maggiore della difesa che è un'organizzazione molto più grande molto più strutturata di libre italia e comunque anche della fondazione ha avuto se volete l'umiltà di cogliere il valore del protocollo di migrazione e quindi di adottarlo e vi assicuro che ne sanno molto più loro di protocolli di quanto ne sappiamo noi e questo è abbastanza evidente io credo che sia veramente fondamentale suggerire a tutti quelli che migrano a libre office di perlomeno di leggersi il protocollo di migrazione e di rispettarlo perché dentro c'è cultura a non finire cioè ci sono la migrazione del governo francese quella di monaco di baviera è ovvio che non ci sono tutti i dettagli ma c'è un concentrato quindi il protocollo di migrazione dice che si segue un processo dice che si fa comunicazione dice che si fa formazione quelli che dicono ma sostituì a disinstalliamo e ristalliamo evitiamo di farlo non si fa così la migrazione gli utenti si preparano gli utenti si fanno crescere insieme alla migrazione questo è fondamentale non ci sentiremo mai di sposare le migrazioni fatte nel modo in cui non dovrebbero essere fatte perché poi sappiamo benissimo che alla fine queste migrazioni presentano un conto e il conto molto spesso viene pagato tornando al software proprietario e quindi chiaramente viene pagato nel modo sbagliato parliamo di software libero ricordiamocelo sempre il fatto che noi sonia l'ho ricordato molto bene all'inizio che noi abbiamo dei valori etici forti poi sicuramente abbiamo dei valori etici che non significano che con libre office non si faccia business non significa che non ci siano poi delle come dire degli obblighi delle gerarchie gente che lavora e che deve essere pagata non è che possiamo tutti lavorare sempre come volontari in molti casi lo facciamo con grande piacere però alla fine del mese ci mandano delle bollette che devono essere pagate con la stessa moneta con cui vengono pagate le bollette da quelli che lavorano all'interno delle aziende proprietarie quindi abbiamo anche noi bisogno di avere un ritorno Libre office è cresciuto tanto questa è stata un'altra sorpresa molto gradita che abbiamo avuto all'inizio dell'anno c'è stata questa ricerca che è stata fatta negli Stati Uniti dove un campione di 2.000 aziende che è comunque un campione significativo i manager dei sistemi informativi sia io il CTO come li volete chiamare hanno citato libre office tra i sette progetti di software libero più importanti in assoluto di fatto se lo guardate è il primo tra i progetti desktop poi in realtà ci sarebbe anche Ubuntu e se volete Linux anche se Linux in realtà potremmo definirlo più server che desktop però è stata una sorpresa molto gradita e molto importante a fine ottobre abbiamo festeggiato in realtà lo festeggeremo al Fosdem perché festeggiarlo da soli non è carino e quindi lo festeggeremo quando c'è un po' di gente siamo arrivati lì non allora chi ha seguito la storia di open office sapeva c'era un mantra che era quello collaborare a open office è maledettamente difficile quindi non troverete mai un sacco di collaboratori beh noi l'abbiamo sfatata questa cosa qui perché il 28 ottobre del 2015 è arrivato il millesimo committer allora è ovvio che come lo dico sempre non è che lavorano tutti a tempo pieno su libre office questo è abbastanza evidente qui dentro però c'è gente dentro questi mille c'è gente che contribuisce in modo anche continuativo e c'è gente che magari ha fatto solo due o tre patch certo sarebbe bello che molti di più collaborassero in modo continuativo ma per avere una base di circa 300 sviluppatori su base annua ci vogliono i mille perché poi i volontari vanno e vengono è un allora è l'unico progetto di software open source che ha che è arrivato e ormai siamo questo novembre il 63esimo mese siamo a 63 mesi consecutivi di nuovi sviluppatori che entrano nel progetto nessun altro progetto di software open source ha fatto questo negli ultimi cinque anni poi ci sono progetti come il kernel linux che hanno più sviluppatori però magari ci sono dei mesi in cui non ne arriva nessuno nuovo noi per più di 60 mesi abbiamo nuovi sviluppatori per far crescere ulteriormente questi sviluppatori è stato assunto part time un signore questo devo dire è una stranezza se volete perché janni versen e viene da apache foundation e lui è un vecchio sviluppo poi non ho capito perché lui è vecchio ma è più giovane di me e quindi e questo poi il generale non vuole che io dica che sono il nonno del progetto però poi tutti me fanno senti il nonno e quindi non è che posso fare altrimenti però non lo dico più in pubblico perché sennò c'è gente che se la prende quindi però allora lui c'ha tre anni meno di me e è considerato un vecchio sviluppatore quindi considerate io non sono sviluppatore ma questo lo sappiano tutti lui aiuterà i nuovi sviluppatori a entrare con maggiore facilità all'interno del progetto perché comunque parliamo di sette e fischia milioni di righe di codice se poi volete avere maggiori informazioni là c'è riccardo magliocchetti che il codice lo conosce seriamente io faccio finta ma insomma e e quindi lui aiuterà nella crescita perché perché chiaramente nel corso di questi anni la fondazione è riuscita a crescere anche in termini di risorse economiche quindi c'è la possibilità di avere maggiore un maggior numero di persone che lavorano a tempo quasi sempre parziale però perlomeno una parte del loro tempo viene viene retribuita dove siamo in termini di migrazioni queste sono alcune tra le migrazioni tra le ultime quindi 5 veneto qui c'è mio gemmo e lui che non mi ricordo come si chiama ma è esatto comune di bari provincia di bolzano ci sono la paolo don gilli e diego maniacco provincia di trento c'è il mio omonimo pensate qui dentro 60 persone sono due italo in italia ce ne saranno 100 quindi qui c'è una concentrazione di italo qui dentro che è assolutamente al di là della e poi ce ne sono tanti altri perché per esempio c'è banco popolare ci sono altre migrazioni che sono più piccoline di comuni di terni la biblioteca il comune di todi ce ne sono sono più piccole in termini dimensionali queste sicuramente sono quelle un po più grosse dal punto di vista dimensionali dove stiamo andando questa è fondamentale allora chi è membro tdf qui lo dico guardate lo dico molto seriamente qui dentro ci sono una serie di membri tdf ci sono anche non membri tdf allora i membri tdf che provano non votare questi due come primo e secondo no no io allora lui ha detto la clava io uso il cric che è più duro quindi perché c'è qui chiariamocelo perché questi sono tutti i candidati ma nei primi sette il board è fatto da dieci persone cinque sette titolari e tre supplenti nei sette titolari ci devono stare osvaldo e marina punto io farò campagna elettorale ovviamente loro non possono farla però faccio io e quindi comincerò a fare un po di 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 sobbillazione a livello internazionale perché perché è fondamentale che la comunità italiana che in questo momento è la più attiva la meglio organizzata e questo da un fastidio terribile ai tedeschi ma devo dire che io gli ho fatto capire che se gli italiani sono bravi sono veramente bravi poi purtroppo noi ci abbiamo anche un sacco di italiani meno bravi però qui dentro e io diciamo la presunzione di dire che intorno al libre office c'è una percentuale di italiani bravi maggiore che rispetto alla media e quindi noi siamo riusciti e stiamo riuscendo a fare cose che in questo momento negli altri paesi in termini proprio di organizzazione non riescono a fare noi abbiamo un'associazione che funziona sicuramente perché ci sono delle persone valide all'interno abbiamo dei progetti che stanno andando avanti abbiamo un entusiasmo che molti non hanno e quindi chiaramente tutto questo viene notato a livello internazionale ma non è ma non si riflette nella composizione del board mentre sarebbe non solo auspicabile ma direi a questo punto diventa obbligatorio che il board riflette il fatto che la comunità italiana è la migliore in questo momento a livello mondiale alcune novità molto rapidamente libre office 5.1 arriverà nonostante già non vorrebbe ma noi alla fine di gennaio inizio febbraio avremo libre office 5.1 questo è una delle novità ma adesso è inutile stare a fare una presentazione ci sarà il menu degli stili perché perché ci siamo resi conto che essendo gli stili fondamentali all'interno del libre office il fatto che mancasse il menu degli stili in realtà non non trasmetteva non comunicava agli utenti l'importanza degli stili stessi e quindi è stato creato un menu apposito non è una enorme novità tecnologica più comunicativa sono state e sono vengono migliorate la disponibilità delle palette quindi per esempio adesso quando voi create una un grafico gli elementi del grafico ve li trovate nella barra laterale non era così fino all'attuale e quindi potete modificare gli elementi del grafico in modo molto più intuitivo in modo molto più facile però ripeto le novità sono molte di più ne parleremo ampiamente durante il mese di gennaio era solo una micro anteprima questa è un'altra novità fondamentale ci sarà libre office online allora le date presunte di rilascio non prendetele come scritte nella pietra perché stiamo ancora parlando di un software che è neanche in alfa quindi è sempre però il concetto è che editing di base fine primo trimestre 2016 editing collaborativo ma anche questo di base secondo trimestre 2016 editing collaborativo completo fine 2016 ci stanno ovviamente lavorando c'è in particolare un'azienda che si chiama collabora che è quella che sta lavorando in modo più attivo allo sviluppo di queste di queste funzionalità questa è una demo funzionante se andate sul loro sito potete chiedere un accesso e vi danno un accesso alla demo è comunque qualcosa si già si riesce a fare qualcosa tenete presente che non è banale portare tutte le funzionalità di libre office dentro un browser perché comunque le funzionalità sono tantissime questo riguarda libre office 5.2 stiamo lavorando stanno perché poi io dico stiamo ma in realtà io non faccio assolutamente nulla stanno lavorando a un ulteriore evoluzione dell'interfaccia utente l'interfaccia utente attuale rimarrà perché perché noi non è che prendiamo una cosa e se funziona la buttiamo però ci siamo resi conto che ci sono utenti che sono purtroppo ormai abituati a usare l'interfaccia ribbon di office che si trovano persi nel momento in cui non hanno sto malefico ribbon che è una roba di marketing non è una roba cioè qualsiasi ricerca sull'ergonomia vi dirà che il ribbon è scusate il termine tecnico una puttanata però la realtà è che ormai microsoft d'altronde investe milioni e forse anche miliardi di dollari nel marketing è riuscito a convincere che questa invece è una cosa fantastica allora dobbiamo fare qualcosa di simile non sarà assolutamente un ribbon ma usando la tecnologia Glade che quindi è una tecnologia che ci permette di creare un'interfaccia che è dal punto di vista del dimensionamento delle finestre è dinamica si farà qualcosa che visivamente assomiglia al ribbon ma in realtà riprende un concetto che è quello dei notebook tab dei software che c'erano già negli anni 90 quindi non è nulla di nuovo ma semplicemente utilizza un vecchio concetto sposandolo a una nuova tecnologia questo però non ci sarà prima di LibreOffice 5.2 per gli smanettoni potranno compilarsi LibreOffice 5.1 per avere una quindi un po' di codice sarà dentro la 5.1 chi vuole farsi del male se lo attiva chi non vuole farsi del male aspetta LibreOffice 5.2 le ultime due frasi allora questo è un signore che conoscete tutti conoscete anche il secondo spero almeno ma allora come qui questa la Gandhi la diceva agli indiani ovviamente quando loro avevano quella piccola querel che hanno avuto con gli inglesi circa 100 anni fa prima ti ignorano poi ti deridono poi ti combattono allora noi nella nostra querel con Microsoft siamo al poi ti combattono questo credo ormai sia chiaro a tutti quindi siamo pronti perché fra un po' poi tu vinci la seconda è una frase che è indirizzata soprattutto al sottoscritto allora pochi sanno e adesso lo dico in modo più ampio che questo signore era amico fraterno di mio nonno e mio nonno il motivo per cui mi chiamo Italo e adesso mi commuovo è mio nonno che si chiamava non Vignoli ma Modestini perché è mio nonno materno mio nonno aveva studiato insieme a Benedetto Croce all'università di Camerino e abbiamo scoperto io e mia sorella un carteggio ma un carteggio è alto così tra mio nonno e Benedetto Croce nello studio di mio nonno che era avvocato che è nella casa di Assisi e ci siamo trovati questa frase che dice l'opposizione ringiovanisce lui diceva se io fossi rimasto senatore mi sarei seduto sugli allori e questa è molto indirizzata al sottoscritto ovviamente perché essendo appunto il più vecchio devo ricordarmi che devo rimanere giovane è vero che voi mi ci fate rimanere quindi questo mi aiuta però vorrei anche come dire ricordarmelo personalmente perché è importante e siccome comunque invecchiate anche tutti voi ricordatevelo anche voi perché prima o poi arrivate anche voi ai 61 anni che ho io e quindi prima o poi fa comodo avere un monito di questo tipo e ultimissima cosa le cose succedono se le facciamo succedere non stiamo ad aspettare gli altri che ce le facciano succedere intorno perché le cose succedono se noi ce le facciamo succedere se oggi siamo qui se quello che sta succedendo intorno a Libra Italia sta succedendo e perché noi stiamo creando perlomeno le condizioni per che succeda quindi tutti quanti se avete 5 minuti del vostro tempo pensate anche ogni tanto a Libra Italia e pensate a quello che potete fare noi ci pensiamo sempre però voglio dire per me è abbastanza evidente io dal primo gennaio 2016 di fatto lavorerò a tempo pieno per la fondazione e quindi questo chiaramente mi permetterà di fare un pochino di più di quello che faccio attualmente e spero di farlo allo stesso livello con cui è stato fatto negli ultimi 5 anni io ho finito se avete delle domande sono disponibili non solo adesso anche dopo credo che è meglio andare avanti i spediti perché se no rischiamo di andare in ritardo chi c'è dopo di me che gli preparo la presentazione grazie grazie